Come cambiare il logo di Instagram? Beh, molto semplice, questa volta non c'entra l'app comandi. Dato che Instagram ha compiuto il suo decimo anno di vita, Instagram ha pensato bene di introdurre una nuova funzione super segreta. Basta recarvi su Instagram. Qui, andate sulle tre linee, impostazioni, scorrete dall'alto verso il basso, guardate che magia, festeggia con noi. Dato che ha compiuto dieci anni, noi possiamo cambiare il logo di Instagram dall'attuale alla classica, originale, basta che premete sopra il logo che vi piace e automaticamente, senza nessuno sforzo, lo cambierà, perennamente. Pride, andiamo qua, guardate che bello. Lo so che non lo sapevate, ma grazie a me lo sapete.